Nero ha provato a fare una base di lano, insomma non proprio una base ma a cercare di tirar fuori quel gruppo, però a occhio questo non sembra avere tanto spazio, infatti ci si chiede se come poi in partita bianco gioca qui, come se la cavano poi le pietrine, allora per completare in maniera stringa e bianco, già che ci siamo, da un colpo lo spigge più in là, e poi adesso però qui sotto non c'è spazio per fare gli occhi, deve andare a collegarsi, com'è che si fa a collegare? Stesso problema di qui? Sì, forma un po' diversa ma stesso problema, non è quasi qua. E' il nostro corso gratuito. potrebbe diventare problema 1,2,3,4,5 libertà per nero più un cuo io spero di fare un occhio c'è chi arriva prima non è una bellissima citazione sembra il vantaggio di tantissima no, di 1 1 più il copio 1 perché c'è 1,5 se no sarebbe una però andava letta tutta perché in altre situazioni giocare in quel modo allora, a istinto è sufficiente comunque c'è forse volendo allora e questo è esattamente quello che hanno giocato per cui ottimo se uno ha il dubbio credo che possa anche considerare questa infatti era quello che dicevo come prima io come nero avrei pensato di vedere se funzionava però quello è il problema che da bianco qualcosa di più cioè se quella non è necessaria questo scambio è un punto grande però a me era più facile da leggere che non arrivare fino a contare le libertà dei due gruppi sì 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 sì